L'Asla Vezzano Sulmona L'Aquila esporta la propria esperienza pilota sulla gestione del malato di tumore, incentrata sull'asse rete oncologica territoriale, terapia del dolore e cure palliative, in altre realtà della regione. Se ne è parlato stamane in un convegno alla Bazzia Celestiniana, promosso dal reparto di oncologia dell'ospedale Peligno, dove sono state poste le premesse per estendere ad altre aree d'Abruzzo il nuovo modello di integrazione ospedale-territorio, in modo da gestire con modalità nuove ed efficaci il malato oncologico. Gestione integrata del paziente oncologico verso nuovi standard di riferimento, questo è il tema al centro del meeting, a cui hanno partecipato oltre 100 specialisti e operatori sanitari di varie asla abruzzesi. Nel comprensorio Peligno il cancro, soprattutto per il tumore al seno e al colon, registra un'incidenza superiore alla media nazionale. L'oncologia del capologo Peligno ogni anno contrasta l'attacco del tumore con 3.000 accessi in dei ospital e circa 1.200 prestazioni in ambulatorio che riguardano, oltre alla malattia in sé, anche il trattamento del dolore. La breccia innovativa, aperta dalla ASL della provincia dell'Aquila rispetto alla tradizionale gestione del malato oncologico, riguarda il trattamento integrato tra ospedale e territorio, dove operano gli ambulatori dei distretti sanitari, operativi geratempo all'Aquila da diversi mesi, presenti anche ad Avezzano e Sulmona. Grazie alla rete aziendale oncologica, il malato, quando possibile, viene seguito non più in ospedale, riservato ai casi gravi, bensì nel territorio e con cure personalizzate, così il paziente ha possibilità di accedere alle terapie nel luogo più vicino al posto in cui abita. E' un nuovo assetto, quello introdotto dall'ASL Avezzano e Sulmona l'Aquila, il cui ulteriore punto di forza è costituito dalla rete del dolore e delle cure palliative. Fondamentale in questo senso l'opera di coinvolgimento messa in atto dall'ASL 1 Abruzzo sui medici di famiglia, che nell'affollato meeting di oggi a Sulmona erano presenti numerosi.